Oggi siamo a Palazzo Ceglios della provincia di Rovigo per riproporre un'ottima iniziativa dello scorso anno, che lo scorso anno ha avviato la sua sperimentazione, ovvero Bus Bici, un'iniziativa di Bus Italia Veneto, uno dei gestori del servizio extraurbano della provincia di Rovigo del TPL, ovvero del trasporto pubblico locale. Bus Bici è un'iniziativa attraverso la quale un cittadino o un turista può utilizzare il servizio di Bus, portando con sé anche la propria bicicletta verso le destinazioni forse più conosciute e amate del nostro territorio, ovvero quelle del Delta del Po. Anche quest'anno riproponiamo questo servizio grazie alla collaborazione con Bus Italia. Noi come provincia di Rovigo abbiamo fortemente creduto in questo progetto e ci piacerebbe che in futuro, nel lungo periodo, si riuscisse a immaginare un servizio ancora più esteso in tutto il territorio polesano. Questo per permettere non solo di conoscere il nostro territorio in maniera lenta e più approfondita, ma anche di sostenere una modalità di mobilità sostenibile, che riesca a integrare non solo l'utilizzo della bicicletta, ma anche quella fondamentale, quella delle corriere e del Bus. Quindi un'iniziativa che l'anno scorso ha fatto un primo passo, una prima sperimentazione, che viene riconfermata con forza quest'anno per l'intero periodo estivo. Come l'anno scorso sarà necessaria l'iscrizione online attraverso l'app Quibus Veneto e con un pagamento di un piccolo supplemento di 3 euro. Le direzioni saranno due, ovvero Rosolina Mare, presso il comune ovviamente di Rosolina, e Baricata per quanto riguarda Porto Tolle. Quindi due destinazioni importanti per quanto riguarda il turismo balneare, ma non solo, nell'area forse più riconoscibile e riconosciuta del nostro territorio, ovvero il delta del Po. Buongiorno, abbiamo accolto con entusiasmo questa richiesta dalla provincia di Rovigo di effettuare in quest'anno il servizio Bus più Bici, un'iniziativa sicuramente interessante, nuova per il territorio, che però consente di poter mettere in sinergia due strumenti della mobilità pubblica, perché abbiamo il bus, ma anche la bicicletta che va verso la sostenibilità. Speriamo di avere anche una buona adesione, di migliorare sempre più questo tipo di servizio, di avere sempre più clienti che utilizzino questa modalità, che speriamo anche potrà essere un'apertura verso nuove soluzioni, nuove linee per il prossimo futuro. Da parte nostra ringraziare l'impegno che viene messo da parte di tutti i nostri operatori, degli autisti che sono sempre disponibili nel dare una mano, nel portare avanti queste iniziative e magari a settembre ci ritroviamo per trarre fila e poter festeggiare un buon risultato.